il set è uno dei punti nevralgici della realizzazione di un film o di un qualsiasi prodotto audiovisivo in quanto tale deve essere ben studiato e ben organizzato come si prepara un set che cosa bisogna considerare per evitare di essere travolti dal caos il set è un mondo il problema del prima del set si pone rispetto al fatto che spesso lo si considera come un punto di partenza mentre invece il set è un punto di arrivo è la punta di un iceberg ok tutto quello che arriva sul set deve essere progettato le persone presenti i ruoli che ci saranno sul set le cose di cui ho necessità le informazioni necessarie alle persone che devono lavorare alla realizzazione del tuo obiettivo perché loro sappiano cosa fare sappiano cosa serve e non si perda tempo quindi il regista in questo senso deve aver comunicato il proprio piano deve deve averlo comunicato ai propri reparti deve aver permesso alle altre figure che lavorano con lui di poter fare il proprio lavoro quindi sul set è un punto veramente di congiunzione di tutto questo il set è il momento in cui il piano che hai teorizzato prende forma il piano che hai teorizzato vede una sua realizzazione e vede se funziona è una messa in pratica di un piano di una strategia di quello che tu hai visualizzato hai cercato di organizzare insieme alla produzione l'aiuto regia il direttore della fotografia la scenografa e tutte le altre figure attorno e in quel momento dice ok ci siamo detti tutto oggi ci vediamo e lo realizziamo quindi prima di un set per un regista è molto importante incontrare tutti gli altri reparti immagino facendo riunioni sia dedicate che plenarie giusto la cosa migliore assolutamente si incontrare tutti i reparti confrontare modificare e aggiornare il proprio piano di regia quindi il primo piano di regia che si presenta non è il definitivo viene modificato per i tempi che hai a disposizione per il tempo in cui ha a disposizione una location rispetto al quantitativo di lavoro necessario al tipo di attrezzatura a cui puoi arrivare ok o anche alla pianificazione alla correzione rispetto alla competenza altrui perché ovviamente se io parlo con un direttore della fotografia ha una competenza di cui io posso assolutamente nutrire il mio progetto ok quindi se lui mi dà un'indicazione me la dà per favorire il progetto io è giusto che l'ascolti e possa migliorare il mio il mio la mia pianificazione oppure la scenografa ti dà delle indicazioni o ti dà delle opportunità alle quali tu non avevi pensato perché non è il tuo lavoro la costumista è così anche la truccatrice c'è ogni ruolo ha una sua struttura l'aiuto regia ti aiuta a far sì che tutto quello che hai progettato poi possa funzionare che venga realizzato nei tempi corretti che tutte le discussioni fatte all'inizio le riunioni gli incontri abbiano avuto un fine abbiano avuto un punto di realizzazione per concludere per un regista predisporre un set equivale già a gestirlo dal punto di vista del regista il set si gestisce dando le informazioni corrette per tempo cioè facendo in modo che tutti abbiano un piano preciso e chiaro in questo modo se tutti i ruoli hanno le informazioni giuste sul set lui non deve pensare all'organizzazione del set ma può pensare solo al miglior risultato possibile rispetto a quello che sta succedendo nella camera a quello che è stato costruito al alla conclusione di una pianificazione precisa può anche dedicarsi per esempio grazie a questa diffusione delle informazioni corrette che permette quindi all'aiuto regia che è la la figura che poi le distribuisce il loco che definisce la temporalità del piano quindi quando si inizia e quando si finisce quale inquadratura questo permette al regista appunto di occuparsi di cose molto delicate come il lavoro dell'attore per scene magari estremamente fini che hanno bisogno anche di un'intensità emotiva sulla quale bisogna dedicare del tempo e se un regista quindi è preso a pensare a milioni di altre cose l'attore è perso e fa quello che può grazie